Abbiamo messo insieme degli elementi che sono molto tradizionali, storici, antichi direi, ma si rendono innovativi nella proposta. Il legame tra territorio e cibo è ovviamente fortissimo e ognuno di noi quando degusta qualcosa di buono si ricorda anche dopo anni devo andare lì perché ho mangiato il cannolo più buono, ho bevuto il vino migliore. L'enogastronomia non rappresenta solo un'enorme risorsa economica, il cui agroalimentare ha raggiunto il record di quasi 45 miliardi di export nel 2019 ma anche una straordinaria occasione per raccogliere e promuovere una grande eredità culturale. A Venezia alle quattro giorni di FIET si è proposta come un luogo d'incontro tra domanda e offerta di tutte le specialità agroalimentari di qualità suddivise in macro aree. Abbiamo sempre detto che Venezia è una città che è a disposizione per trainare la ripartenza dell'intero sistema paese e quindi abbinare il bello della nostra città con la sua visibilità in chiave internazionale e i nostri prodotti più importanti, quelli della terra, quelli del lavoro dell'uomo, si arriva a questi risultati. Quindi il bello incontra il bello e soprattutto il buono incontra il buono. Nata dalla collaborazione tra gli altri della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste, Trieste Convention and Visitors Bureau nasce senza fini di lucro con l'obiettivo di sviluppare l'attività turistica e congressuale del territorio. Il Friuli Venezia Giulia ne ha tante debilezze. Io veramente sto vedendo, contattando tanti operatori del settore a livello nazionale e internazionale che restano veramente estasiati e proprio estasiati anche perché vengono sorpresi da quante caratteristiche ha, sia dal punto di vista culturale, come dicevamo prima naturalistico, ma anche come sport attivo, turismo attivo per arrivare nella gastronomia e non per niente siamo presenti qua quest'oggi a Venezia. Grazie a tutti.